River to River, il festival, il festival e appunto la connessione fra il nostro sacro Arno e il loro sacro Gange magari. In generale mi viene in mente un fiume, quindi il Gange per esempio, un fiume sacro, un posto speciale. Per River mi viene in mente appunto il festival di cinema perché appunto lo conoscevo già.